Senza Dio nulla possiamo fare o avere, e senza di Lui neppure conservare ciò che abbiamo avuto. Perciò, dopo la grazia, è necessario che il Signore sia con noi e custodisca e conservi ciò che Egli solo ha dato, poiché Egli ci previene dandoci la Sua grazia. Nel conservarla diventiamo Suoi cooperatori. Egli non veglia su di noi, se insieme con Lui non vegliamo anche noi.